Partiamo con queste due immagini. Che cosa hanno in comune lui e lei? Lui è il ministro Lollobrigida, nelle ultime ore al centro di una gigantesca polemica per le sue parole al forum ConfCommercio a Villamiani a Roma. Parole che hanno scatenato l'ira di molti, a sinistro ovviamente, ma anche molte critiche in seno alla maggioranza di governo stessa. Tra cui, e qui c'è dell'ironia, proprio la Lega, che fu la prima con Matteo Salvini a usare la stessa identica definizione e che oggi, per magia, ne prende le distanze. Lei è la protagonista del nuovo docufilm su Cleopatra. Attenzione, non serie tv, non film, ma docufilm, cioè che ha la pretesa di essere proprio un documentario sulla figura storica di Cleopatra, ideato niente po' di meno che dalla moglie di Will Smith. E attenzione a dire qualcosa che potrebbe minimamente offenderla, perché se no Will Smith vi schiaffeggia. Ecco, questi due personaggi che rimandano ad un mondo delle idee opposto e contrario in realtà hanno un comune denominatore, ovvero l'ignoranza e la scarsa consapevolezza della propria identità. Fermi! Non commentate ancora, perché già so, questo è uno di quei video che prima di commentare bisogna che lo guardiate tutto. Poi, se pensate che ho detto tutte strozzate, me lo dite dopo. Tanto dura più o meno come al solito, quindi se può fare. Dicevamo ignoranza, perché di ignoranza si tratta quando si cerca di ricostruire un mondo fatto necessariamente di bianco e nero. Sempre sta dicotomia. Destra, sinistra, trantisti, filoputiniani e via discorrendo per ogni questione. Si presenta sempre questa narrazione e il suo opposto, ma è proprio questa polarizzazione che permette all'uno e all'altro di alimentarsi a vicenda senza morire mai. Famola semplice. Cosa sarebbe Batman senza il suo Joker? Cosa sarebbe l'eroe senza l'antieroe? Cosa sarebbe una teoria senza il suo contrario? Ed è proprio di questa visione del mondo scisso a metà con i paraocchi che in ogni video, da quando faccio video, vi invito a diffidare. La realtà è che questo bellissimo e terribile mondo molto spesso è fatto di una realtà molto più tangibile, a tratti anche un po' banale. Spesso, proprio perché è così, facciamo fatica ad accettare che possa essere così banalmente terreno e abbiamo bisogno di riempirlo di teorie e di elementi per nobilitarlo, per abbellirlo, quando in realtà, per capirlo, ci basta semplicemente un'arma, la più potente di tutti, la cultura. Un'arma che teniamo troppo spesso scarica e che a volte ci scordiamo addirittura di usare. Partiamo dal punto dolente, la parola sostituzione etnica, pronunciata dal ministro Lollobrigida, che l'ha tirata fuori mentre parlava del problema del calo della natalità. Il termine sostituzione etnica richiama al piano Calergi, una teoria filosofica che in realtà nasce sempre nel seno di quel gioco del qualcosa e la creazione del suo opposto. Il piano Calergi opponeva alla superrazza ariana e alle idee del suprematismo germanico un'idea di superuomo di stampo nicciano. Ideali quindi del nazionalsocialismo tedesco, di suprematismo, imperialismo, autoritarismo, venivano quindi disintegrati immaginando un uomo unico, creato dall'unione di tutte le etnie, che fosse quindi un superamento delle differenze etniche, che è a fondamento della visione paneuropeista. Se voi andate a cercare su internet che cosa sia il piano Calergi, lo troverete indicato come teoria del complotto. Anche qui siamo in seno al solito giochino delle parti, perché etichettare come complotto una filosofia che nasce in seno a un particolare periodo storico è una visione quantomeno miope. Io sono dell'idea che nessuna filosofia andrebbe etichettata come complottista, quindi declassata a cialtroneria, perché le filosofie vale sempre la pena studiarle. Solo studiandole se ne possono capire i limiti, le incoerenze storiche. Quindi se è pur vero che nessuna filosofia andrebbe bisfrattata in questo modo, è però altresì vero che non tutte le filosofie sono lo specchio della realtà. Perché la filosofia del piano Calergi altro non è che un'aspirazione ad un mondo diverso rispetto a quello in cui nasce. Sbagliare dall'equazione il periodo storico in cui si cala è un grandissimo errore. Guardare con gli occhi della contemporaneità una filosofia che si cala in un preciso periodo storico è lo stesso identico errore che viene attuato dalla cancel culture. Ed è qui che si lega lei, la Cleopatra subsahariana, perché è figlia della stessa identica miope visione. Nel trailer del docufilm si sente esplicitamente non importa cosa dicono i libri di storia, Cleopatra è nera. Se non importa più che cosa dice la storia, allora qui che stiamo a fa' sbaraccamo baracche e burattini. Cosa gli ho studiati a fare dieci anni di archeologia? Storici, archeologi, cosa siete voi a petto della moglie di Will Smith? Qua ognuno può di quello che gli pare. Si prendono alcuni elementi, si tolgono dal contesto storico di riferimento e si rapportano agli occhi dell'uomo moderno. Questo è quel processo che porta all'abbattimento di statue, perché l'uomo moderno non sa fare i conti e non vuole farli con il suo passato storico. Questo è quel processo che porta oggi ad appellarsi a filosofie anacronistiche. Insomma, quel processo che porta al parto delle frasi di Lollo Brigida della Cleopatra subsahariana. Perché ve potete pure strappare i capelli. Cleopatra non era, non è e non potrà mai essere questa, perché era greca. Senti sto lì, queste sono greche, sono grechi. Discendente della dinastia tolemaica. In sintesi tutto parte dalla morte di Alessandro Magno. La grande espansione territoriale di tutte le sue conquiste rimane senza una guida. I generali di Alessandro Magno cominciano a litigare per spartirsi quei territori tra di loro. E l'Egitto va ai Tolomei. Quindi, ripetiamolo insieme, greci. E no, ma dai, io sono grechi. Vabbè, ma può essere che no, non può essere. Perché i Tolomei erano talmente tanto fissati all'idea di governargli gli egiziani senza mai mischiarsi con loro, che per mantenere la linea di sangue si sposavano e si riproducevano tra fratelli. Quindi ci può essere stata sta contaminazione etnica? No. Ve potete inventare tutto quello che ve pare, ma era certamente caucasica. Al massimo, ma proprio al massimo, essendoci un buco storico su chi fosse la madre, andando a riprendere le fonti che parlano di una sacerdotessa egizia, poteva certamente essere non al 100% caucasica, ma di sicuro non subsahariana. La statuaria, la numismatica, lo studio delle iconografie, ci ricostruiscono questi tratti e questo volto. Quee, Carmela! Simile ad una trapanese, che hanno tra l'altro uno sputo di mare, che ha questa. Ve la sto facendo semplice, perché è meglio che non vi racconti come venivano trattati i subsahariani in Egitto. Basti pensare ai nubiani, alle discriminazioni che tutt'oggi subiscono, alle immagini che abbiamo ad Abu Simbel per capire che no, proprio quello non poteva essere. E lo so che c'è una certa ideologia che cerca in ogni modo di trovare ogni appiglio possibile. Tanto quando non le trova, non importa quello che dice la storia, come hanno detto nel trailer. Con le parole di Lollo Brigida è la stessa identica cosa. Non importa che la storia contestualizzi quella teoria ad un momento specifico. Non importa che si stia parlando di mera ipotesi filosofica dei primi del Novecento. C'è a chi tutto questo non interessa e comunque ci crederà. Lo sapete perché sia l'una che l'altra narrazione ci credono. Perché il sentimento che le domina è la paura e la fragilità identitaria. La cultura woke è talmente fragile a livello di identità che ha bisogno di sostituirsi, incapace di crearne una propria. I Lollo Brigida della situazione hanno paura perché sanno di non avere un'identità forte da non temere nulla. Perché Lollo Brigida è sbagliato termine. Non è una sostituzione etnica, è una sostituzione culturale. Allora lì sì che avresti detto qualcosa di saggio. E per di sta cosa non c'è bisogno di ricorre nella filosofia perché è una realtà brutalmente tangibile. Tangibile perché non sono né le idee né le filosofie ma è il soldo che muove tutto. Immigrazione incontrollata non porta alla sostituzione etnica, porta al lavoro sottopagato. Mano d'opera a basso costo che porta all'inflazione del mondo del lavoro. E il calo della natalità certo che non lo risolvi con l'immigrazione. Ma di certo manco con l'assenza di politiche serie nel mondo del lavoro. L'obiettivo non è di tipo etnico, è di tipo economico. Aveva capito benissimo Bernese, a me un autore molto caro che cito spesso perché lì con Bernese ci trovi tutto. Lui l'aveva capito che anche il concetto della libertà è un prodotto vendibile, che se orienti i cittadini ad identici consumi, identiche idee politiche, identiche identità, allora è un po' più facile parlare di libertà. Questa finta libertà che si vende è il capitalismo. L'aveva capito bene quel figlio di ballerina scalza di Bernese ma non esiste più figlio di ballerina scalza di chi la consapevolezza se la crea con la cultura. Chi ha consapevolezza della propria identità diventa il figlio di buona donna meno convincibile. L'obiettivo della sostituzione etnica non è fattibile perché è anacronistico. L'obiettivo della sostituzione è quello culturale. Creare popoli senza storia che siano dei gusci vuoti, più propensi ad essere riempiti con identiche idee e identici bisogni. Giollo Brì non serve andare a sfociare sul piano Calergis e poi dite sì signore a chi tutto questo lo impone. Siccome non ci convincerete mai e Cleopatra la potete riscrivere in tutte le salse che ve pare. Che per quanto mi riguarda e riguarda quelli come me ci troverete sempre qui armati dell'arma più potente possibile, la storia. Armati di un'identità coltivata a suon di cultura o meglio nel continuo tentativo del perfezionamento di essa. Mentre continuate a proporci il mondo o così oppo mi, noi saremo sempre la terza via. Non temiamo né paure di sostituzioni etniche né le riscritture woke. Che chi è consapevole della propria identità non sarà mai né uno spaventato né un debole. Segnatevelo questo. Perché un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non sicura di sapere nulla, non può avere un domani. Se ti è piaciuto iscriviti al mio canale youtube e agli altri indirizzi social che trovi qui. Se puoi sostenere il progetto Bubble, un semplice caffè, una piccola donazione al link e poll che trovi qui sotto. Ciao e a presto!